L'università, un dottorato senza borsa, la tua famiglia, se ci credi davvero, tu non togli uno di questi professori, tu morirai. Hai cambiato lavoro, 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 hai cambiato lavoro di famiglia. E te lo giuro, gli ho provato in peccati, questo lavoro di cui sta in millones de anni, tutti non vedrai, penso che te lo andai. Niente è più il sogno della stazione e la vita, più che è il bimbi e non lavorerà, tu non lavorerai, tu non lavorerai, tu non lavorerai. Grazie a tutti.